musica 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 bella a tutti ragazzi benvenuti su INAVCHANNEL il canale degli scarsi qui con voi spawn killer camper e lo scarso siamo qui a commentare una mia grandissima mob in dom de merda no dai diciamo l'ho presa con la K47 ma è una mob super camperata questa cioè il mondo non lo so si inverte camper russia e killer camper e lo scarso chiama le mob lo scarso diventa forte si si qui stiamo è una mob de merda però è l'unica che spawn che io dell'ha fatto con la K eh si allora permettiamo che tipo i due mesi prima loro si continuavano a bestemmiere ad andarsi l'anima a chiamare oh io chiamo una mob con la K io ci provo fortunatamente era il giorno dopo la patch ma è uno scandalo ma guarda è qui ad esempio guarda quanto fai schifo è uno scandalo ma come facciamo a proporre un video del genere camper dove non c'è la gente io ancora più scandaloso perché sei a 5 6 uccisioni di fila e camperi eh uno da specialista eh c'è tutto il rispetto ma guardati ma guardati ma sei ancora qua fermo qui depresso non trovo nessuno forse scappo forse corre qua eh eh voglio cercare un altro posto per camperare no no ragazzi beh si stanno muovendo però questo non è camperare vedi si sta muovendo è una camperata su guarda questo predatorio ah no non mi prende è il prossimo che posso che prende hai anche un nemico a fianco per tutti quelli che vogliono camperare io consiglio questo posto molto utile perché c'è la grata che non ti vergogni dire queste cose non ti vergogni beh tornando al discorso di prima io sono recidivo quello lì mi sembrava un bel posto ma poi ne scoprirò uno molto più bello vi dico guarda facciamo così cambiamo i nomi tu direi un tempo sai camper io dirò dei camper una laurea onoris causa camper per me l'ho presa un po' camperando un po' solo un po' un po' non troppo ah si tornando all'esorso di prima che voi avete cambiato discorso secondo me per sbaglio ci sei messo la coda sui piedi non potevi muoverti quindi sei stato così da recuperare mi avevo messo nelle impostazioni scarponi più pesanti per avere una migliore aderenza al terreno perché Don comunque è scivolosa si sa qui tripa intanto di tutto rispetto e poi immagino che tu rimani fermo qui quelle ore camper de merda poi è scivolosa e in più voleva fare una specie di allenamento per correre meglio nelle mappe più grandi e quindi con gli scarponi pesanti si tipo goku che si allena con i pesi nelle braccia si nelle braccia non è neanche una battuta tranquillo quindi ero sempre sotto pressione non ci pare da che parte arrivassero beh poi c'è la mob di scarso anche lui camper da tattica con lo squadrone con lo squadrone che gli lascia solo b e quindi andiamo avanti a doppie uccisioni di averci in squadra spigli spiglietti spiglietti ti camperi la piantina di resistenza finchè finchè non muoio dai finchè non muoio finchè non ci stupiamo di insultarlo 3 2 1 muoio bravo beh dai chiudiamolo qua bella da spawn killer che in questo caso non ha spawn killato ciao ragazzi arrivederci